Quante battaglie contro i nostri amici senesi, cazzotti, sputi e diti negli occhi, battaglie che hanno fatto la storia della nostra amata Toscana. Ma lo sa ci sono ancora dei miei amici senesi e tutti gli anni mi mandano un messaggio per l'anniversario della battaglia di Montaperti. Tu ci riedi? Oh guarda allora. Piccole tensioni che ormai sono superate, che voi sono paese ai 750 anni, non è che si sta ancora qui a discutere tutte le orte di che di quello che vinse contro l'altro. Dì a me quei messaggi e non me li mandi, se tu scendi, se tu non amo tu scendi ti riempio di cazzotti, te proci a scendere, proci! Il Chianti in special modo era spesso teatro di queste aspre battaglie fra i due popoli, qui per esempio sono al castello di Volpaia, una chicchetta. Però dopo anni e anni di guerre così estenuanti, Firenze e Sena arrivarono ad una tregua. Per delimitare i confini tra le due repubbie si decise così di fare una specie di gara. Due cavalieri sarebbero partiti dalle rispettive città al primo canto del gallo. Il punto preciso in cui si sarebbero incontrati poi i cavalieri avrebbe decretato il confine definitivo tra Firenze e Siena. E mettiamoci una pietra sola. Ora invece sono a Radda, altra chic. Ora ho fatto 250 km. I senesi per l'occasione scelsero un gallo bianco e lo rimpinzarono di tutte le specialità della zona. Mangiare, bere, dormire, sesso, droga e rock'n'roll. Vedere il gallo bianco è stato a 10, grazie. Eccolo qua. Come qui? Ma è che l'è? Che l'è un gallo questo? Questa non è una gallina, l'è anche spelacchiare. Sarà uguale, vieni via. Ma che tu mi ha dato? I fiorentini al contrario scelsero un gallo nero e si comportarono in maniera completamente diversa. Niente mangiare, bere, dormire, lo teniamo come un pellaio poverino. Sto gallo era un cazzano come le bestie. Fai vedere adesso il gallo nero un cazzano come le bestie. Eccolo qua. Benissimo, ce l'abbiamo. Anche questo però, che cosa mi porti? Anche questo è una gallina. È un pollo questo qui. È una gallina, è passata la vorpi. Almeno la gallina fa l'ova. E il gallo non lo fa. Bello. Ciao a Samanta. Il giorno della sfida arrivò e il gallo nero di Firenze cantò molto prima rispetto ai colleghi a Senese che in frattempo se la prese comoda e si svegliò a mezzogiorno. Piazza di greve inchianti. Fu così che il cavaliere fiorentino riuscì a partire con largo anticipo rispetto al cavaliere di Siena. E di gran carriera al galoppo riuscì ad arrivare quasi a toccare con un dito le mura nemiche. Alla fine il cavaliere senese si svegliò e si incontrarono a circa 12 chilometri dalla sua città. Per concludere si può dire che quella volta senza dubbio, senza fallo, Firenze batte Siena 3 a 0 in trasferta. E il Chianti quasi per magia passò sotto la giurisdizione fiorentina. Ale ale violale, la fiorentina porterò sempre con me. Bene sai, bene o mandamelo in messaggino, vieni, mandamelo ora, oh, ma metti rilacqua ma sei scemo. Firenze poi volle giustamente omaggiare il suo gallo nero facendolo diventare non solo simbolo di questo meraviglioso vino. Ma anche di tutto il suo meraviglioso Chianti. E poi tutto suo, non è più, perché quattro comuni alla fine li siano da Asenesi. Infatti oggi i Chianti li ha diviso in due, quattro comuni noi e quattro comuni Siena. E ancora questa francamente è un'HP, meniamoci su, vai, è meglio.